Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video ritorniamo a parlare di Your CD Keys i sviluppatori di questo sito vi hanno supportato già qualche mese fa e siccome dal 12 al 20 giugno ci sarà un'importante promozione con sconti che vanno dal 25 al 35% per tantissime chiavi beh hanno deciso di ritornare sul mio canale e li ringrazio per aver sponsorizzato questo video cos'è Your CD Keys? beh non è altro che uno dei tantissimi siti che vende chiavi di tanti prodotti passiamo da Windows a Office ma anche videogiochi e programmi che hanno costi anche importanti beh poterli acquistare con uno sconto così corposo consente davvero di risparmiare tantissimo la prima cosa che facciamo è andare a cambiare la valuta in euro e dopodiché facciamo il login siccome io mi ero già registrato mi faccio il login automaticamente ma se ancora non l'aveste fatto beh dovete registrarvi un'operazione che richiede davvero pochissimi secondi per acquistare le chiavi ci sono due modi il primo è quello di aggiungere al carrello clicchiamo su Add to Cart e vediamo che qui lo sconto è stato applicato in maniera automatica quindi se il prezzo normale standard di Windows 10 era i 17,40 euro abbiamo il 25% di sconto quindi scendiamo a 13,05 euro a questo punto sarà sufficiente procedere con il pagamento vedete lo sconto è già applicato e potete ovviamente pagare con tanti metodi di pagamento diversi tra l'altro impostiamo anche la lingua italiana in modo da avere più familiarità dopodiché possiamo comunque andare a cercare per esempio come potete vedere qui abbiamo anche videogiochi divisi anche per piattaforma e tanti altri programmi possiamo anche andare a cercare per esempio Office 2019 e in questo modo andiamo a cliccare sulla pagina prodotto clicchiamo qui su acquista ora e andiamo poi nella pagina di pagamento dove possiamo inserire il codice il mio codice personalizzato è TRT20 che dà diritto ad uno sconto del 25% quindi se noi avevamo prima 49,36 euro per acquistare Office adesso lo paghiamo solamente 39,49 euro che è un prezzo decisamente allettante anche perché vi permette di risparmiare davvero tantissimi soldi già il prezzo di 49 euro è comunque concorrenziale rispetto sia all'abbonamento mensile di 10 euro al mese sia all'abbonamento annuale di 100 euro all'anno figuriamoci se poi possiamo risparmiare altri quasi 10 euro di sconto fatto questo possiamo inviare l'ordine e a questo punto possiamo decidere appunto di pagare con tantissimi metodi di pagamento io vi consiglio sempre di pagare con Paypal perché la piattaforma rapida, indolore, è molto semplice da utilizzare e soprattutto è sicura quindi se magari l'ordine per qualche strano motivo non vi dovesse arrivare o vi dovesse arrivare alla chiave sbagliata eventualmente fate il rimborso oppure con date sul centro assistenza di Orsi di Kiss in modo da ottenere un rimborso procediamo dunque con il pagamento tramite Paypal è una cosa che ovviamente non vi faccio vedere anche perché bisogna inserire vari codici ovviamente il codice è attivo per tantissimi prodotti e una volta acquistata la chiave di Office per attivarlo sarà sufficiente prima recarsi sul sito di Microsoft nella pagina apposita per i setup dopodiché dovremo fare ovviamente il login se non abbiamo un account dovremo creare un altro account e infine inserire la chiave di attivazione del nostro pacchetto Office che abbiamo acquistato nel mio caso Office 2019 Pro Plus abbonamento annuale dopodiché bisognerà scaricare l'eseguibile di Microsoft Office attenderemo qualche minuto finché la procedura non andrà a buon fine lanciamo un programma qualsiasi di Office io in questo caso ho lanciato Microsoft Word e dopodiché dovremo solamente confermare l'attivazione come potete vedere dal messaggio che compare poi dopo la conferma dell'attivazione quindi le chiavi sono ovviamente tutte disponibili attenzione perché magari al momento in cui pagate con Paypal all'effettiva consegna della chiave potrebbero passare magari anche qualche mezz'ora o qualche oretta quindi non abbiate estremamente fretta l'ordine va a buon fine nel caso passassero più di 24 ore al massimo scrivete al supporto tecnico vi lascio comunque tutti i link per cui sono validi le promozioni qui sotto nella descrizione io ringrazio ancora Your CD Kiss per aver sponsorizzato questo video e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao